Qual è la differenza tra fabula e intreccio? Ultimamente ho visitato un po' di blog letterari e mi sono resa conto che il concetto di fabula e il concetto di intreccio spesso vengono confusi e compresi male per cui vorrei fare chiarezza che cos'è la fabula? La fabula è lo schema narrativo per eccellenza del tuo romanzo cioè il modo in cui tu decidi di sviluppare la trama del tuo romanzo per cui non è altro che una sorta di lista se la vuoi preparare prima se la vuoi progettare prima di tutti gli eventi in ordine cronologico che avverranno nel tuo romanzo quindi non è altro che la sequenza dei fatti così come accaderebbero nella vita reale cioè in ordine cronologico L'intreccio invece è quell'azione che va a agire sulla fabula e la va a modificare a livello cronologico e temporale quindi quando tu intrecci una storia significa che prendi la fabula e la sposti la confondi confondi le acque a livello temporale e aggiungi flashback metti gli analessi fai in modo di modificare con delle digressioni, degli assunti flashback, flashforward modifichi il normale corso della vita del personaggio del tuo romanzo e così facendo confondi le acque per fare in modo che il lettore non si annoi durante la lettura del tuo romanzo a a a a Grazie a tutti.